Sono bloccato più volte a Youtube, cerco di fare questo Youtube e non ci riesco a farlo. Gavino mi dice, ciao Robi, come si diventa Caglieri? Caglieri si nasce, si nasce così, non si diventa. Ti accorgi di essere così. Io fui ricoverato all'ospedale per un caso di appendicite, o penitonite acuta. I miei genitori, il dottore, fece vedere dove era il problema. Disse, non è appendicite questo e altro, è omosessuale, è gay, ha toccato la vagina. La vagina dietro monta, è integrata nel nano, come nella foto, come abbiamo fatto vedere prima. Non è molto scandalistica la fotografia. Insomma, per sap poco è uguale agli altri gay, per sap poco uguale. Siamo quasi uguali, quasi. E così uno si è accorto di essere gay. Ma questo non è mica un problema, che mi faccia una vita tranquilla, completamente. Ci sono persone che mi rispettano e persone che non mi rispettano. Comunque. Si nasce così. Non si diventa. Si nasce gay. Si nasce così. E uno si rassegna completamente. Non mi crea un problema. Non mi crea un problema. Mi crea un problema solo la parola affroccio. Io preferisco omosessuale, gay. Grazie di avermi ascoltato. Buongiorno. 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 Buongiorno.